La Corte d'Appello di Firenze ha condannato a tre anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo Bissa di secondo grado sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa Ligure precipitata all'alba del 3 agosto 2011 da un balcone di un hotel di Palma di Mallorca, dove era in vacanza. La giovane, secondo l'accusa, stava scappando da un tentativo di stupro. Per la Corte d'Appello di Firenze, i due giovani di Castiglion-Fibocchi avrebbero dunque cercato di violentare la giovane, causando la morte come già affermato in primo grado dal Tribunale di Arezzo. Accolte dunque le richieste dell'accusa, il procuratore generale Luigi Bocciolini aveva infatti chiesto per i due imputati tre anni di reclusione. Albertoni e Vanneschi in primo grado d'Arezzo il 14 dicembre 2018 vennero condannati a sei anni di reclusione per tentato stupro e morte in conseguenza di altro reato, delitto poi estinto per intervenuta prescrizione. Il 9 giugno 2020 la Corte d'Appello di Firenze aveva invece assolto i due ragazzi perché il fatto non sussiste. La Suprema Corte di Cassazione, lo scorso 21 gennaio, aveva poi annullato la sentenza di assoluzione disponendo un nuovo processo per i due imputati come aveva sollecitato nel corso della requisitoria il sostituto procuratore generale Domenico Seccia, accogliendo i ricorsi presentati dalla Procura Generale di Firenze e dalla parte civile. Adesso la decisione di condanna per gli imputati da parte della Corte d'Appello di Firenze nel processo BIS.